Io non mi faccio nessuna puntura, non mi faccio nessuna droga, non mi faccio nessuna striscia di coca, ma questo sembra vero perché io sono un personaggio, un personaggio, un personaggio anticonformista. Se tu vuoi conoscermi davvero, segui un sentiero davvero, non qualunque sta, cerca di essere un buon affarista, stai nel cuore e rimani te stesso con amore, segui la via che conduce al Signore. Io non mi faccio nessuna puntura, non mi faccio neanche una striscia di coca. Grazie.